Musica Venire a scuola in estate è una cosa diversa, c'è tutta un'atmosfera più informale. Non si era mai organizzata una cosa del genere e nella sua originalità è molto bello, molto divertente, perché si sta a scuola con uno spirito diverso. Musica Questo progetto si chiama Piano Estate Altosi. Abbiamo pensato a questo progetto estate per recuperare un po' i nostri ragazzi, specialmente dopo questo periodo di lockdown dove non abbiamo avuto modo di interagire. Soprattutto abbiamo cercato di considerare la nostra azienda agraria come un laboratorio a cielo aperto. Sì, stare fuori è più divertente perché c'è l'azienda, la serra, più cose da fare. Qua in azienda i ragazzi si occupano della manutenzione del verde e poi si passa al benessere dei nostri capi, delle nostre vacche. Ci occupiamo del caseificio e poi c'è il corso sulla conduzione del trattore con il satellitare. Musica Quindi la possibilità di condurre un trattore senza guidarlo materialmente, di portarlo in linea retta per semine, trattamenti nei campi, eccetera. Così come invece attività di laboratorio di fisica o di biologia, quindi con l'estazione del DNA. Seguo principalmente il laboratorio di fisica perché è un'attività che mi interessa. Imparano cose che altrimenti non imparerebbero di tutto quello che può servire nella conduzione di un'azienda agraria. I prodotti che vengono fatti in questa scuola vengono venduti, quindi si vendono i formaggi, i fiori. Dal futuro della scuola in generale mi aspetto il più presto possibile un ritorno alla normalità e alla vita vissuta attraverso gli sguardi, attraverso i contatti fisici perché questa è la cosa più importante. Il progetto è particolare, innovativo e figo. Il progetto è particolare, innovativo e figo.